Ciao a tutti ragazzi di Qshadow e oggi siamo qui in questo visto video e prima di iniziare perché volevo farvi vedere un giochetto che ho trovato di Naruto per Game Boy Advance e semplice però giusto per riempire un po' il video perché il vero scopo del video per me almeno sarebbe farvi vedere questo emulatore che ho trovato cioè si chiama tipo retro se è più un'app del play store così retro 64 games si chiama dove possiamo giocare però i titoli più importanti non so se tutti ma non credo del NES, del Super NES, del GBA, del Game Boy Advance e guardate c'è di tutto e basta scaricare del Nintendo 64 cioè basta cliccare, faccio download, mi scarico poi 6 MB che non vanno ad occupare niente sul dispositivo perché sono tutti nell'app insomma, ti restano nell'app cioè guardate Sonic Advance 2, 3, 4, tutti i Sonic, i Super Mario cioè è veramente incredibile il bello è che è facile giocarci e i giochi sono completi ma io ho trovato questo coso a casissimo cioè perché non avevo per niente intenzione di giocarci però ho trovato questo coso, mi serviva per far girare la mod di Mario 64 che ho portato tipo una settimana fa, poco più e insomma mi sono imbattuto in questo emulatore che mi ha cambiato la vita, cioè non mi ha cambiato la vita ora però quando non ho niente da fare vado e scarico 2-3 giochi e gioco insomma cioè è incredibile ma più che altro ce ne sono molti altri di emulatori anche meglio però è di una semplicità e di una velocità è proprio per divertirti io lo chiamerei cioè vai, clicchi, scarichi e fai comunque il gioco che volevo provare oggi era questo e vedete, ho clicco questo qui, l'avevo già scaricato ora vado forse non dobbiamo esagerare con il volume forse e vedete è questo, aspettate faccio un attimo exit e casomai questi qui sono i piccoli imprevisti dell'app e dicevo, vedete però ho cliccato e sono lì e guardate c'è Pokémon Rossofuoco Pokémon Squadra Rossa e Squadra Rossa dove ho letto? vabbè non lo voglio ritrovare cioè c'è tutto veramente è una cosa che volevo consigliarvi cioè non mi sponsorizza ma magari però un po' volevo volevo cioè perché l'ho trovato una cosa bellissima e ora possiamo iniziare perché volevo fare un video su questo giochino anche se probabilmente faccio due partite non uscirà così sostanzioso sì ma il volume è proprio così alto o non so a prescindere possiamo scegliere tra Naruto e Sasuke dai scegliamoci Sasuke cioè alla fine è un giochetto fatto a caso cioè volevo giusto vederlo un po' così ok ehm si ah ah distrutti ok sai non mi interessa Kakashi posso saltare qui non li voglio ah allora ok li distruggo cioè ma giusto per fare una partitina ok ah che cos'è passaggi segreti ho trovato Sakura ecco perché ho trovato Sakura no no devo fare il saltone eh non ce la faccio più mi sono bloccato ma se vado qui morto ma così proprio me lo dici ah ora devo ricominciare dall'inizio eh ho trovato vabbè picchio picchio ah l'uccello eh no no è sembrata una cosa bruttissima no di nuovo vabbè ciao Sakura e allora qui qui aia no non ce la faccio a passare per dirli ok finiamoci giusto ho finito il livello Konamaru oh devo combattere contro Konamaru e contro il suo maestro che è Bisu ah è vero è Bisu non mi ricordavo eh vabbè ma usa la sua grande tecnica di mimetismo Konamaru dai ma guarda ma non 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 sei veramente nascosto mi sembra di rivivere le prime puntate dell'anime si vabbè non è è incolpivole è incolpivole cosa ho detto incolpibile volevo dire vabbè e Bisu è quello che gli fa perdere danno se no è invulnerabile Konamaru ok cioè quindi questa qui è tipo la boss battle ah e vabbè ma è è invulnerabile e vabbè devo provare a colpire e Bisu distrutto è lui però ho finito ok perfetto mamma mia salvataggio anche ditemi se volete la serie su questo gioco no non la porterò mai però ditemi se la volete dovete lasciare centomila like a questo video per averla vi porto tutto il gioco completo tutti i segreti tutto tutto però dobbiamo arrivare ai centomila mi piace eh ma ora come ok mamma mia quanto sono intelligente troppo cioè ho visto che non si poteva ora ok di nuovo vabbè ho visto che non si poteva passare lì ma qui neanche non è che è meglio ok no no va bene bloccato serio bene perfetto io direi che questo video si sta per concludere vabbè vabbè e alla fine era un video non mi paga ve l'ho già detto però per mostrarvi questo simpaticissimo emulatore con tutto che è già nel gioco non devi inserire cioè puoi anche inserire la room se vuoi qualche acrum qualche mod qualcosa però c'è alla fine i giochi sono tutti qui ci sono quattro console vabbè cioè io direi che sono rimasto sorpreso quando l'ho visto e e niente chiudo qui il video spero che vi sia piaciuto vi invito a scaricarlo perché cioè ve l'ho già detto come si chiama perché non mi ricordo spero di avervelo già detto e sì mi pare che ve l'ho già detto comunque e vabbè cioè alla fine se volete passare un po' di tempo capito non è che possiamo portare i gameplay su youtube perché alla fine è un po' scopodo però ma è un ottimo passatempo con altra con molta roba e io direi che il video si può concludere qui spero che vi sia piaciuto mamma mia Zelda dei miniscop oddio ci ho giocato non mi ricordo dove ci ho giocato ci ho giocato però ci ho giocato non ricordo però ci ho giocato e e ah volevo portarvi la serie e ci ho fatto ma tipo due anni fa no vabbè dopo pokemon rosso fuoco ci ho fatto ho registrato i primi tre episodi e poi ho tolto perché non volevo più e ah bello era però bello bello e vabbè io direi che il video si può concludere qui spero che vi sia piaciuto vi invito a lasciare un like e se non l'avevi fatto e dopo sorpresina ma come avete già visto nel post community che vi ho lasciato ieri inizia una nuova serie e niente tutti sintonizzati sul canale alle 17 anzi per vederla un'imprego e via un'imprego no un'imprego e e e Grazie a tutti